Il campione parolimpico sudafricano Oscar Pistorius sarebbe stato arrestato dalla polizia in relazione alla morte della sua compagna trovata senza vita per un colpo d'arma da fuoco nell'abitazione dello sportivo. Secondo voci riprese dai media, Pistorius avrebbe fatto fuoco contro la modella trentenne Riva Stimkamp avendola scambiata per un ladro. Sul caso si registra uno stretto riservo, ufficialmente la polizia si limita a dire che è stato arrestato un uomo di 26 anni, l'età di Pistorius, senza però fornirne le generalità.